Presso la cattedrale di San Paolo di Alatri, secondo appuntamento della rassegna di musica classica, souvenir d'altri tempi, Flute Festival. Il giovanissimo flautista Francesco Polletta eseguirà il concerto per flauto e orchestra, Cap 313 di Mozart, accompagnato dall'orchestra sinfonica Sinfonia Nuova, diretta dal maestro Maglio Polletta. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.